Una mostra e una cena per sostenere la ricerca. Marco, nello specifico che cosa ha organizzato la Fondazione Pirozzi? Ogni anno ci inventiamo qualcosa di nuovo per mantenere l'attenzione al nostro progetto, quello che stiamo facendo. Quest'anno abbiamo deciso di anticipare un po' il periodo natalizio, prendendo il primo giorno di dicembre. E da lì partono due iniziative particolari. Una è una cena che è legata al cibo, perché noi abbiamo sempre parlato di cibo un po' nel nostro percorso, perché appunto tutto nasce dalla tesi di laurea di Francesca sull'alimentazione in chemioterapia, che è diventata un libro, abbiamo coinvolto i chef stellati, abbiamo fatto tante cose. Per cui è un modo per ritornare a parlare di cibo. Quindi mettiamo 100 persone a tavola in un percorso degustativo, però sarà raccontato. Ci saranno medici, ci saranno produttori, ci saranno i ricercatori del progetto che stiamo finanziando. Quindi una cena spettacolo. E sempre il primo di dicembre facciamo partire invece una mostra, che durerà un mese, e è una mostra un po' particolare, perché ha una serie di opere d'arte che ci hanno donato degli artisti in questi anni, oltre a dei preziosi, degli orologi antichi da tasca, che una famiglia ci ha donato. E tutto questo sarà visibile in un negozio in via Matteotti 163 a Fano, ma sarà acquistabile solo online all'asta. Quindi c'è un gioco un po' particolare per renderla un po' più frizzante. E il ricavato poi dell'iniziativa? Il ricavato di entrambe le cose è... Continuerà a sostenere il progetto di ricerca oncologica che stiamo finanziando al Dipartimento di Biologia Molecolare dell'Università di Urbino con Seda Fano. Una ricerca che, come dico io, siamo la fondazione più piccola del mondo, forse, che sta finanziando una ricerca in un'università che alcuni dicono, ma c'è l'Università Urbino, però con risultati importanti. Qualche mese fa abbiamo presentato a livello nazionale i risultati e c'è ancora molto da fare, però siamo sulla buona strada.